E qua ti voglio io! Io ti voglio qua, cazzo! Qua ti voglio! Gestiamo una chiamata con una ragazza, ti va? Cerchiamo di capire, con questo telefono putrefatto, che non si accende neanche più perché mi hai volato nelle scale una dozzina di volte l'altro giorno, come riuscire a creare una chiamata decente con una ragazza senza farci presagire come l'ennesimo verme passivo che sta lì, alla merce della ragazza, come tira il vento, Ah, sì, no, vabbè, sai, tipo porcellino carino, coccoloso, sei Hello Kitty? Sei bianca nei baffettini? Hai l'asino rosa? Piccolino? No! Non sei Hello Kitty! Dobbiamo cercare di imprimere da subito forza alla ragazza, personalità. Cioè, con lei, con la nostra chiamata, devi in qualche modo dire figa, wow! Cioè, a fine chiamata devi dire wow, questo qua mi sconvolge tutta, già solo con una chiamata. Pensa a baciarlo, pensa a uscirci insieme, ok? Con la chiamata, la chiamata è un vero e spartiacque, è come un primo appuntamento che ti fa capire e che fa capire alla ragazza quanta personalità hai, quanto lei può venirti dietro, chi dei due ha le redini del gioco e vogliamo tenerle noi alle redini del gioco. La chiamata, la prima chiamata, è tutto un gioco di voce, modulare le pause, saper far investire la ragazza e oggi li vedremo tutti, devi studiarti questa roba, ok? La chiamata va fatta quando? Quando la ragazza è già un minimo presa in chat, non ha senso farla prima, la ragazza deve essere un pochettino coinvolta perché la chiamata è lo step successivo, ok? Che ti permette appunto di rimanerle in testa e dopo la chiamata, come ti dicevo, deve avere te, te in testa tutto il giorno, esce con l'amica e te in testa, va a dormire a te in testa, va in doccia a te in testa, ha sempre te in testa. Quindi la chiamata va fatta a seguito di una chat corretta, dopo 1, 2, 3, 4, 5 giorni, allora puoi farla o improvvisandola, quindi boom, prendo il telefono, so che è là perché sta con me, stiamo parlando, stiamo chatando insieme, allora la faccio, perché so che è online, oppure quando meno se lo aspetta, ma so che può rispondere, occhio, perché se vede la chiamata e questa qua dice ma hai chiamato? Eh, diventa un casino, quindi la ragazza deve rispondere. Perché diventa un casino? Ora ti stai segando tutto, ah, diventa un casino? Perché? Adesso cosa fa? Mi butto giù? No, non buttarti giù la balcola, tranquillo, diventa un casino semplicemente perché è più figo che questa veda la cazzo la chiamata e la prenda. Poi magari ci sono ragazze un po' più timide, no? Che non rispondono apposta e poi ti dicono, scusami sai, ero a danza, facevo X, quando in realtà magari era online, sai che era online, allora a quel punto le dici, niente coraggio per rispondere alla chiamata, vabbè, volevo farti sentire la mia voce, in reality, volevo farti sentire la mia voce, cioè sono io che ti do un premio. Il sottotesto delle frasi, delle cose che dico, che vi insegniamo anche in coaching, cazzo ha una personalità, questa frase qua, volevo farti sentire la mia voce, volevo omaggiarti della mia voce, volevo omaggiarti qualche minuto della mia voce, pazienza, cazzo il sottotesto è, volevo farti un regalo, ti sei meritato un regalo da parte mia, io sono un po' più su di te, ok? Allora, dobbiamo cercare di capire in che modo impostarla, impostarla, impostazione della chiamata sono quelle 4-5 cose ma che vanno fatte bene. Come agire nei primi secondi? Nei primi secondi dobbiamo semplicemente attenerci a un piano ben preciso, cioè calma, voce profonda, tenere proprio qualche pausa di qualche secondo affinché la ragazza si possa agganciare, e non fare come la blatta media, che chiama e comincia a fa, ah, ciao, allora, come fa? Cosa dice? Come fai? Cos'è bene? E la ragazza passivamente risponde. Questa chiamata non le lascia niente questa chiamata, questa chiamata è sterco di cane, come l'hai fatta, puoi anche non averla fatta, non cambia, non fa differenza, e tu devi risolvere la giornata con la chiamata. Facciamo una simulazione di una chiamata, ok? Simuliamo una chiamata, tac, primo squillo, io sto calmo, intanto sicuramente c'è agitazione, c'è tensione, ma dobbiamo stare calmi perché il primo pezzo, la prima parte di voce che esce deve essere profonda, tranquilla, di persone che sono a loro agio, sono tranquille, puoi camminare nel frattempo, fai quello che cazzo ti pare, ok? La ragazza risponde, quindi la voce deve essere una roba tipo, ehi, eccoci qua, stop, stop, in pausa, sto in pausa, eccoci qua, ehi, oh finalmente, eccoci qua, oh finalmente, eccoci qua, pronto? ehi, eccoci, oi, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, è la voce di uno che è a suo agio, è la voce di uno che sa il fatto suo, che mette già personalità, cioè senti che non è, ehi ciao, ciao, ehi ciao, mi sto cagando sotto, ehi, mi sto cagando sotto, ehi, mi sto cagando sotto, ma è un, ehi, eccoci qua, pausa, questo perché la ragazza ha bisogno di agganciarsi, e poi magari ipoteticamente fare una domanda, quindi ci risolve, chiaramente, la chiamata, ed è lei buttare dentro il primo argomento, non fare domanda all'inizio, le pause sono molto importanti, cioè non è un errore fare una pausa un po' più lunga, cioè a un certo punto io dico, ehi ciao, e lei mi dice una roba tipo, intanto ci sta accendendo, no siete spento, ehi ciao, lei mi dice, ciao, aspetto un secondo, aspetto un attimo, vedo che succede, se la ragazza non dice niente, non faccio domande, posso semplicemente dire una roba tipo, occhio, non parla, e io, allora, allora, una semplice, cazzutissima parolina, ti porta da qua a qua, punto A, punto B, allora, il sottotesto è, dimmi qualcosa, allora, allora, pretendo che tu mi dica qualcosa, allora, 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 non è il tono di voce un, allora, e, allora, ma è un, allora, allora, finalmente siamo qua, il sottotesto è, allora finalmente siamo qua, che facciamo, che si fa, cosa fai, butti un argomento, allora, adesso vedremo le domande, stai là perché vedremo tutte le domande, che potrebbero essere fatte, anche la parte un po' più ironica, alla Steve più cazzuta, uno spunto interessante è, prenditi tutta la confidenza, tu vali cazzo, devi prenderti tutta la confidenza, se vuoi baciare la prima appuntamento, se vuoi avere una conversazione, una chiamata efficiente, figa, devi prenderti tutta la confidenza, quando io già dico solo, ehi, ciao, eccoci qua, mi sto prendendo una confidenza tale, per cui io sto fermo, fisso, con la voce, sono tranquillo, quando le dico, e allora? è un prendere la confidenza, in maniera molto blanda, ma è comunque un prendere la confidenza, prenditi la confidenza con la ragazza, dille quello che cazzo ti pare, posso anche dire una roba tipo, l'ho fatto eh, guarda, ho detto, la chiamo, non la chiamo, no, non la chiamo, anzi poi ho detto, voglio sentire la sua voce, come si comporta in chiamata, ho detto, la chiamo, e aspetto, e aspetto, pausa, pausa, perché deve assimilare le cose che arrivano, pausa, stai tranquillo, anche perché più fai pause, più le cose da dire possono venirti, meno fai pause, perché sei sconvolto, perché c'è il telefono, perché devi fare, perché devi pensare di intrattenere qualcuno, peggio è, perché tu non stai intrattenendo nessuno, prenditi la confidenza, ecco alcune domande, le prime, e spunti di conversazione, se la ragazza magari è un po' anameva, perché è imbarazzata, perché è possibile che con questo, fare cazzuto, la ragazza possa imbarazzarsi, va benissimo, è ottima questa cosa, ti sento, ti sento bella timida, ti sento un po' imbarazzata, rispetto a dietro uno schermo, mi piace il vostro effetto che ti faccio, aspetto, lei eh, eh sì, beh, beh, non me l'aspettavo, beh, ci sta, una sorpresa, le sorprese, sono sempre le più belle, no? Perché non ce le se le aspetta, aspetto, 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 io posso stare un minuto, due minuti, senza parlare di un cazzo di niente, semplicemente a commentare le nostre sensazioni di quel momento, poi le cose arrivano, poi le cose avvengono, non avere fretta, ecco alcune domande che puoi fare, argomenti che puoi tirare in ballo, domanda appunto come ho detto prima, ho anche stuzzicamento, una roba tipo, no niente, questa, io sorrido sempre, perché esce una voce migliore quando sorridi, o fai finta di sorridere, o comunque allarghi le labbra, no? Sto forma di sorriso, niente, questa, questa chiamata, è un po' una prova del nove, volevo sentire la tua voce, e capire alcune cose, sentite come me la gusto, mi gusto, me la gusto, la frase me la gusto, vado in pausa, 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 guardate la rifaccio, guardate la pausa com'è, niente, questa chiamata, è un po' una prova del nove, ecco, volevo sentire la tua voce, e capire alcune cose, ecco, piano, piano, quanto è emozionale, quanto è sexy, o mettetela come volete, è molto impattante, altro argomento, prendi qualcosa di cui stavate parlando prima, no? Io faccio spesso e volentieri questo trucco, cioè, stiamo parlando di un qualcosa che la vede molto coinvolta, boom, la chiamo, a un certo punto poi le dico, no beh, t'ho chiamato perché ho detto, è una cosa talmente importante, e figa, mi interessava, che ho detto, sai che c'è, ne parlo al telefono con lei, ho fatto male? Io lo dico spesso, ho fatto male? Per farmi dire, no, no, l'hai fatto bene, investimento da parte sua, forza un indicatore di interesse, ho fatto male? Siccome mi piaceva l'argomento che stavi trattando, sentivo entusiasta, ma mi son detto, voglio sentire la sua voce mentre parla di questo, t'ho chiamata così, ho fatto male? Ho fatto male? No, 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 anzi, tutta sbrodolata, oppure prendo un argomento nuovo di cui, volevo parlarle, me lo so insegnato magari, un qualunque cosa, spesso e volentieri, quello che faccio è, cazzo, mi è appena passata davanti la pubblicità del nuovo visore di Apple, del nuovo serie X, della nuova cosa Y, chiedo un consiglio di un'altra cosa, discuto su alcune cose, stasera vado a X, stasera vado alla festa Y, ah, che parla, stasera devo fare Z, domani devo andare a X, che parla, domani mi devo svegliare presto perché devo fare Y, poi ci sono quella la Steve Meister, cioè un po' più ironiche, un po' più stuzzicanti, ma che se le fai bene, e vanno a segno, la ragazza le assimila, io posso garantirti che prenderai valanghe di punti in più, valanghe di punti, valanghe, una roba tipo, anche per mettere in difficoltà, ma devi avere i coglioni belli duri, belli so, belli pieni, proprio pieni di latte, e sono robe tipo, aspetto magari qualche minuto della conversazione, la sento un po' più sciolta, chiaro, non lo faccio con una ragazza che è timida, e che sento che è un po' imbarazzata, la faccio con ragazze che sono, si sono un po' aperte, in genere dopo 5-6 minuti, vai liscio, e quindi comincio a flettere, a punzecchiare, la chiamata deve avere un senso, cioè non è che la chiami a caso, la chiamata deve avere un senso, ai fini della seduzione, ai fini della conoscenza, ai fini di conquistarla, cazzo. Vabbè, parliamo di cose serie, ma mi stai pensando o no in questi giorni? Perché mi fischiano le orecchie, ma non come vorrei, e quindi voglio accertarmi di questa cosa. Stuzzico, stuzzico, senti il tono, stuzzico, la ragazza ride, e comincia, e beh sì, e beh perché, perché non t'ho pensato abbastanza, è male, male, ho detto caspita, 3-4 ore al giorno, cioè è un lavoro pensare a Steve, devi farlo, anche perché se mi avessi detto, caspita che mi pensavi tanto, io ti avrei detto un'altra cosa, che poteva farti piacere. Non ce l'ho la cosa che devo dirle, semplicemente è uno stuzzicare alla ragazza per farmi dire quello che serve, poi magari lei mi dice, e ce l'ho scoperto con, vabbè dai sì, ti sto pensando, t'ho pensato, boom, hai un boom, cazzo, hai boom, 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 dentro, dentro, a un certo punto le posso dire, vabbè allora dai, ti dico che anche io, casstranamente, perché non mi succede spesso, mi capita di pensarti qualche volta durante il giorno, boom, è sempre messo sul valore, valore, caspita non mi capita mai con le altre, non mi capita mai, valore, queste sono tutte cose che impari in corsi, investendo qualcosina, non prenderti i cellulari che poi si rompono, ti compri un corso e impari qualcosa di utile, faccio un complimento, una roba tipo, comunque, mi piace, questa tua voce, mi piace, verso fine chiamata magari, no, mi piace, questa voce è, simi il cartone animato, bella, vedi faccio un complimento, ma lo faccio strano, simi il cartone animato, bella, riderà perché dirà, che cazzo vuol dire, è strano, questo qua è strano, e quello strano lo scopa, quello che non si migliora, rimane, ciao come vai, non ci scopa con questo,